Inizierò con alcuni saluti e ringraziamenti doverosi e sentiti ovviamente. Allora un carissimo saluto a tutti voi dal profondo del cuore, un abbraccio affettuoso e di amicizia a tutti coloro che sono venuti qui a stare con noi e a passare questa bellissima giornata. Comincio con l'ASL organizzatore di questo evento, i colleghi che sono venuti qui da Como, il dottor Antinozzi che vi manda i suoi saluti, non ha potuto venire per problemi familiari. E poi le associazioni che hanno dato un contributo determinante perché la giornata riuscisse in questo modo. Gli sponsor istituzionali e commerciali, la Croce Rossa di Tomasco, il Lario Soccorso, i Carabinieri, i Parmucci. Senza di loro, senza i comuni, senza la comunità montana che hanno dato un contributo fattivo, oltre allo sponsor ma anche sostanziale, non avremmo potuto fare questa giornata. Perché? Praticamente con un abbattimento dei costi che noi abbiamo avuto, siamo riusciti a contenerli e quindi a godere di questa giornata meravigliosa. Dobbiamo anche ringraziare lo sponsor Cardini. Ringraziamo inoltre l'Unione Provinciale e Commercio, la gestione governativa della navigazione Lagi e la Federfarma perché ha permesso anche qui un abbattimento dei costi per il trasporto delle persone che sono venute da Como. E quindi anche questo è stato un contributo significativo insieme alle istituzioni per l'abbattimento dei costi. Ma io ringrazio in particolare la passione civile, il forte sentimento di amore per il prossimo, le motivazioni a far bene dei volontari dell'Associazione Anteas, Hauser, degli Alpini, della Casa di Riposo. Di crisi morale, di crisi etiche e di crisi civili, civile. E' stato fatto per sentirci pronti ad abbracciare insieme nuove speranze di crescita, di sicurezza, di fiducia verso un futuro migliore. Per sentirci per sentirci tutti insieme in comunità, in senso inclusivo e propositivo. Per sentirci per sentirci grati e orgogliosi del nostro passato, delle nostre tradizioni, dei nostri valori antichi, valori della pace, della solidarietà, dell'uguaglianza. Per sentirci insieme riconoscenti ai nostri genitori, ai nostri nonni, per ciò che hanno rappresentato per noi singoli, ma per quello che hanno rappresentato e rappresentano per la società, per la famiglia, per i nostri figli. Un punto fermo di unità, in cui riconoscerci, in cui stare uniti, per sentirci ancora forti con i nostri nonni, che esprimono la loro forza attraverso la storia. In un mondo globalizzato, in cui la famiglia purtroppo è implosa. Ringrazio anche di tutti coloro che hanno esposto le loro invenzioni, le loro capacità, le loro conoscenze attraverso sia l'immagine, quindi la fotografia, che queste opere che potrebbero andare in velo. Sì, sia l'espositore di questa gigantografia, che è un network che praticamente si muove in alto lato, perché riconosce le persone del geometro Arturo Mancini, dell'ingegnere Parenchi Luca e promotore, e coloro che hanno inventato e fatto queste cose importanti. Anche qui potete ritirare poi magari all'ingresso i siti su cui collegarvi per questo tipo di discorso in vete che si sta costruendo in alto lato. E quindi tra queste due persone che ho citato, uno dei tanti promotori. Detto questo, darò la parola a chi è più di me attivo per farlo in questo senso, sia per quanto riguarda l'estituzione, per quanto riguarda il contenuto della giornata. Non dimentichiamoci che noi stiamo promuovendo degli stili di vita importanti, per la lotta contro le patologie, contro la disabilità, contro la cronicità e contro la nuova autosufficienza. Quindi è un sistema di valori dal punto di vista scientifico di noi in fronte d'anno. Per oggi, l'abbiamo già fatto, va a presto di sentire nel futuro, tutti i giorni, per fare i nostri corsi. Quindi la lotta della semplicità è in particolare. Quindi io darei la parola a queste persone. Prima al posto di Andro Santoro, che è il meglio della loro. Poi dal punto di vista scientifico di Andro Santoro, che è il meglio della loro. Poi, Dottore Salino, c'è il visto parziale che non fa la situazione. La situazione è la più politica dell'aria. E poi, in particolarissime, i due simili presenti. La loro ora è il fungiatto di Andro Santoro.